Ciao, hai chiamato? Sì, Zola, lei è Meredith. Meredith, lei è Zola. Ecco, la puoi tenere un momento? Vieni, prendila. Ok. Zola, mi fai un sorriso? Sì, vedi, i movimenti facciali sono intatti. Ecco, guarda di qua, hai visto? Guarda come mi segue, di qua. L'esame neurologico è buono, anche dopo lo shunt. Bene, è successo qualcosa? Perché hai chiamato? Devo chiederti una cosa, ok? Infermiera, puoi scusarci un momento? Vorrei che fossi completamente sincera con me. Se Alex ti ha detto qualcosa, io non. Adottiamo questa bambina. Cosa? Dici sul serio? Sì. Sai, la tenevo in braccio ieri. Stava piangendo e ha smesso. Ho tenuto in braccio tanti bambini, ho operato tanti bambini, ma... Ho guardato Zola e non so cosa sia stato, solo che non riuscivo a immaginarla con un altro padre o un'altra famiglia. Stiamo cercando in tutti i modi di mettere su famiglia e... E a lei ne serve una. Adottiamola. Parlo sul serio. Adottiamola. Parlo sul serio. Grazie. Parlo sul serio. Grazie a tutti